Bene, direi che possiamo iniziare. Benvenuti e benvenuti al webinar di oggi, dedicato all'analisi fondamentale, che sarà tenuto da Matteo Battaglia. Benvenuto Matteo. Grazie, benvenuti a voi tutti. Io sono Fabio Molfese, infine, ecco bene che mi occupo di educational trading. Quest'oggi con Matteo andremo a vedere quello che è un concetto chiave, che è quello dell'analisi fondamentale, chiave per tutti coloro che vogliono iniziare a operare e che già operano sui mercati finanziari, perché oltre all'analisi tecnica bisogna sapere interpretare anche quelli che sono i principali indicatori di bilancio. Insieme lo faremo, andando a vedere la piattaforma Fineco, quindi il sito di Fineco, quali dati ci mette a disposizione, come interpretare questi dati. Faremo una differenza settore per settore perché ogni settore ha dei, diciamo, dei limiti di indicatori di bilancio, non sempre gli indicatori sono uguali il settore verso l'altro settore e faremo degli esempi pratici. Prima di iniziare, però, vorrei lanciare tre sondaggi con voi. In questi tre sondaggi vi chiedo qual è il vostro livello di trading attuale, quindi se vi ritenete esperti, neofiti o intermedi, e quali sono le vostre aspettative sull'inflazione, quindi sui tassi di interesse, e sui mercati finanziari, quindi se saliranno ancora i tassi di interesse, se scenderanno o se rimarranno invariati, e se i mercati finanziari, in maniera conseguenziale, saliranno, scenderanno o rimarranno presto a poco su questi livelli. Nel frattempo che rispondete io passo la palla a Matteo Battaglia, così potrà condividere lui il suo schermo, e nel frattempo che lui condivide lo schermo magari andiamo poi ad analizzare i vari sondaggi. Ok? Quindi molti di voi si aspettano che i mercati saliranno, il 51% di voi. Andiamo a vedere, scusatemi, quello sul tasso di interesse non ve l'ho lanciato, pensavo di sì. Vediamo cosa vi aspettate sul tasso di interesse. Allora, molti di voi pensano che potrebbero salire ancora anche in virtù di quello che stanno dicendo i banchieri centrali Powell e Lagarde su tutti. Matteo, se vuoi iniziare a presentare, poi magari durante il webinar andiamo ad analizzare questi risultati e li commenteremo. Allora, innanzitutto faccio una panoramica di quello che sta succedendo perché i dati fondamentali di una società hanno molto senso all'interno del contesto in cui stiamo lavorando, non solo presi a se stessi. Perché dico questo? Perché siamo in una fase in cui stanno cambiando molto le attenzioni, l'attenzione all'andamento dei tassi di interesse e ad esempio ci sono dei titoli che sono molto più esposti ai tassi di interesse rispetto ad altri titoli e quindi saremo più attenti a vedere chi può beneficiarne e chi meno. Questo non vuol dire che in sé i dati di analisi fondamentale sono dei dati che a seconda del momento valgono o non valgono, ma sicuramente, lo dico tra virgolette, c'è un po' una moda, non è giusto dire che sia una moda, ma ogni azienda partecipa a un sistema economico internazionale per cui se ci sono dei forti riflessi, se ci sono dei forti cambiamenti macro, allora avremo anche dei riflessi all'interno dei conti economici di alcune aziende. Facciamo degli esempi, in questo periodo abbiamo visto come i dati di molte banche elettrimestrali, oggi ad esempio Banco Popolare Milano sta facendo molto bene, sono andati bene, è andata bene intesa, è andata bene Unicredit, proprio perché i tassi sono saliti e questo fa bene a quel settore. Quindi l'analisi fondamentale va usata come? Va cercata di capire quali sono i dati fondamentali per alcune società, è come se ci fossero le cartine tornasole su cui alcune società sono più sensibili a determinate notizie macro, mentre altre lo sono meno, e poi riusciremo a capire come interpretare questi effetti macro sul titolo che stiamo seguendo. Quindi stavolta non partiamo dalla singola società, ma partiamo dal macro, e poi andremo a vedere sulle singole società che impatti certe notizie hanno, cercando appunto di scomporre la loro situazione microeconomica, quindi la loro situazione fondamentale. Allora oggi il Fondo Monetario Internazionale si dice ancora preoccupato per le turbulenze del settore bancario americano, andiamo avanti, la Federal Reserve parla di credit crunch, e quindi ancora che ritorna il problema delle piccole banche regionali negli Stati Uniti, e noi ci chiediamo se questo avrà effetto sulle banche innanzitutto europee, e poi se il credit crunch avrà effetto su alcuni settori in particolare. Andiamo avanti, questo è un ETF che si chiama KRE sulle piccole banche regionali americane, ed è uno degli ETF che come vedete è preso dai piccoli investitori, anche dai miei investitori, in questo periodo abbiamo un boom di volumi, proprio perché si sta scommettendo molto sul rimbalzo o meno di queste banche. qui per entrare sempre nel sistema macro in cui stiamo lavorando in questo periodo, oggi sono usciti i dati di export e import della cinesi, bene l'export, male l'import, perché è importante? Andiamo a vedere che ci sono delle società, soprattutto il lusso italiano, che è molto esposto alla Cina e quindi all'import cinese. I dati sotto forma non di grafico ma di numero, andiamo avanti, e poi qui invece vediamo, sto facendo questa carrellata macro un po' velocemente, perché il tema sono più appunto i dati fondamentali, però è fondamentale capire dove ci stiamo trovando in questo momento. Qua ci sono le attese di tassi, in questo caso di taglio dei tassi negli Stati Uniti, in particolare già nel 2024, nel gennaio 2024, ci si aspetta tassi al 3,5%. Cosa vuol dire questa linea? Vuol dire che se oggi abbiamo appunto i tassi, li abbiamo superiore appunto al 5% e tutti si aspettavano che i tassi potessero salire ancora, col credit crunch sta invertendo molto la tendenza delle scommesse degli operatori su dove andranno i tassi in America. E quindi questo taglio abbastanza importante che si aspetta il mercato dei tassi di interesse un po' nasconde una stima di un rallentamento economico negli Stati Uniti. Io non so sinceramente se crederci perché ci sono altri dati che invece ci stanno dicendo che il mercato del lavoro tenterna un po', ma è comunque sui massimi. Qui abbiamo i dati sull'inflazione americana, anche questi dati sono molto belli a mio avviso, nel senso che da tempo noi vedevamo come l'inflazione americana era spinta molto dall'energia, poi chi è seguito per un po' i miei video la mattina vedeva come noi ci aspettavamo che la parte energetica avrebbe funzionato come il fattore deflattivo dell'inflazione americana e vedete come per la prima volta questo mese il calo dei prezzi dell'energia ha portato a ridurre l'inflazione. Altro dato a cui stiamo molto molto attenti è questa linea bianca, quindi quella legata ai servizi, dentro ci sono gli affitti e voi sapete che c'è tutto un modo per calcolare l'inflazione negli Stati Uniti, è molto discusso, su questi affitti figurativi, shelter, e che pesano per il 40% del dato inflattivo, sono affitti di fatto potenziali, ma per la prima volta appunto vediamo che il dato inizia a scendere. Quindi vediamo che l'America sta in un certo senso avendo, non dico la meglio, però le mosse della Fed hanno degli effetti abbastanza chiari sull'inflazione e da qui si va sempre a vedere come si stanno muovendo i tassi, in particolare si va a paragonare l'andamento dei tassi a 10 anni meno i tassi a 2 anni. Noi vediamo appunto che c'è questa inversione molto forte, ma se dovessimo parlare di recessione allora era giusto parlarne più in questo periodo qua, cioè più a febbraio. Adesso il mercato sta scontando un miglioramento di questa situazione, lo sfondo rimane quello del credit crunch e della paura appunto che questo possa portare a una chiusura o rallentamento, diciamo diminuzione dei rubinetti del credito verso l'economia reale americana e quindi minore investimenti e minore spesa anche da parte dei consumatori. Prima parlavamo con Fabio del fatto che le piccole banche regionali, alcune di queste, hanno concesso dei mutui e che ha una memoria abbastanza lunga nel 2008, si ricorderà bene, hanno concesso dei mutui dove per la prima parte, dall'inizio fino quasi alla fine del mutuo si pagavano solo gli interessi, il capitale si pagava alla fine. Ecco, sono mutui dove ovviamente li aprono perché non paghi il capitale, ti compri la casa, i tassi bassissimi, i tassi di interesse del mercato erano bassi e quindi queste banche regionali per tirare clienti hanno elargito questa tipologia di mutui che è poco solida. Quando è arrivato il crunch di queste banche ecco che il FDIC che è questo ente interbancario tra le banche ha deciso di salvare le piccole banche, si è comprata questi mutui, si è accollata una perdita di quasi l'80% di questi mutui e poi queste banche sono state vendute, come sapete, a delle big bank americane. Ora, tutto questo scenario cosa sta portando? Sta portando a vedere dei tassi in America che rallentano mentre in Europa i tassi dovrebbero salire ancora. effetti sul dollaro e anche qui per poi ritornare nell'analisi fondamentale vedremo quali sono le società che sono più esposte al dollaro, quindi il dollaro che prima era salito molto e poi adesso che è sceso. Quindi tutte le società italiane ad esempio quotate sul nostro listino che hanno molto a che fare con gli Stati Uniti, ecco che in questo momento se prima hanno festeggiato adesso vedranno i propri conti avere un effetto dollaro negativo sui bilanci. Qui vediamo come l'unico dato molto forte che invece fa pensare al fatto che in America se ci sarà un rallentamento economico non sarà molto forte nonostante le attese di un credit crunch è quello sulla disoccupazione. È vero che abbiamo sempre visto i dati sulla disoccupazione a essere un po' in ritardo rispetto al ciclo economico però dobbiamo ammettere che la disoccupazione negli Stati Uniti è a un livello ancora molto molto basso siamo sui minimi dal 1969 se non mi ricordo male e quindi abbiamo comunque un'economia sul lato occupazione e salari molto forte e quindi questo vuol dire che anche i consumi resteranno forti ancora per un po'. Poi invece abbiamo l'andamento dei tassi in Europa e quindi se da una parte vedevamo l'America con i tassi che scendeva poi vediamo i tassi che ancora dovranno salire ecco che vediamo due mondi diversi due binari diversi fra di loro e a chi è che possono far bene dei tassi ancora forti in Europa? Sicuramente al sistema bancario e quindi abbiamo visto come i risultati di appunto le banche italiane sono andati bene per l'innalzamento dei tassi e noi possiamo aspettarci nel secondo semestre europeo risultati bancari ancora buoni mentre possiamo aspettarci in America risultati bancari in calo. L'altro ieri c'era stata una conferenza della Berkshire e Warren Buffett quando gli hanno chiesto delle banche ha risposto in maniera molto chiara che secondo lui le banche americane non stanno dicendo tutta la verità quindi non si fida dei dati che queste banche stanno mostrando e quindi da lì c'è stata un po' una discussione perché lui in portafoglio come sapete ha la metà del portafoglio che è Apple e poi la seconda posizione nel portafoglio è Bank of America lui ha detto io mi fido molto di questo management però se vi devo parlare del sistema bancario americano non credo che stiano facendo un lavoro di trasparenza sulle proprie esposizioni quindi questo è importante dirlo potremmo aspettarci non succede molto spesso un pochino più veloce non succede molto spesso potremmo aspettarci un'America che va in una direzione sul lato bancario e un'Europa che va in un'altra direzione in parte è successo in questo periodo di solito quando abbiamo un crunch in America ce l'abbiamo anche in Europa però devo dire che stavolta le situazioni sono un pochino diverse io quello che mi aspetto in realtà è che in America la situazione del credit crunch verrà gestita abbastanza bene lo stanno facendo certo chi ci sta rimettendo sono i piccoli azionisti di queste banche e chi ha comprato le obbligazioni di queste piccole banche però a livello sistemico io non credo che ci saranno grandissimi impatti perché le big bank hanno utilizzato dei criteri che appunto non sono stati così semplici come invece è successo per le banche regionali e quindi tutto sommato io non mi aspetto come invece si aspettano in molti che il secondo trimestre, il semestre americano sarà un semestre difficile per il credit crunch per quanto riguarda parlavi prima della guerra Fabio allora dobbiamo dire però che ci sono anche segnali di distensione nel senso che la Russia continua a rimanere la Russia e quindi molto arrabbiata eccetera eccetera però che la Cina e l'India all'ONU hanno votato contro l'aggressione beh ecco questo fa sperare che l'intervento della Cina in un tentativo di pace o di affievolimento del contrasto possa esserci ecco pensare che questo non ci sia sbagliato perché è importante questo perché abbiamo visto come le tensioni e la guerra tra Cina e Russia prima ha fatto volare alcuni prezzi delle materie prime in particolare il gas oggi dobbiamo dire che il prezzo del gas è totalmente sotto controllo i paesi europei si sono molto sganciati dal gas russo non è successo ovviamente per Cina e India che invece lo hanno comprato però il prezzo del gas e il prezzo dell'energia non sono più un tema forte per quanto riguarda l'inflazione importata e quindi questa lotta all'inflazione che passa sicuramente da un rialzo dei tassi perché è stata immessa tantissima liquidità delle banche centrali negli anni precedenti vedi covid e vedi altre problematiche però quindi rialzo dei tassi che ancora ci sarà in Europa però la componente di infrazione importata per la restrizione delle materie prime e di alcuni blocchi o tappi a tutta la catena di approvvigionamento ecco che sta un po' scendendo allora passiamo un attimino a guardare direttamente sul sito di Fineco per cercare di capire come utilizzare al meglio il sito e cercare quali sono i titoli che possono rispondere meglio a questo scenario allora io aspetta screener tu hai sempre un altro modo per cercarlo no non è così il modo più veloce dov'è che cerco screener adesso vai su mercati e trading in alto ok dovrebbe essere azioni clicca su azioni ci dovrebbe essere screener che è ancora a sinistra scusami ah qua azioni prova ok stock screener ok allora cosa possiamo cercare di fare per utilizzare al meglio questo strumento che di fatto chiamiamolo motore di ricerca all'interno delle società di tutte le società qua abbiamo Fuzzimilbo, Sherman, Gap eccetera poi abbiamo Germania, Gran Bretagna, Svizzera le borse americane ecco che noi mettiamo dei filtri a dei dati di analisi fondamentale e riusciamo pian piano a tirare fuori delle società che possono essere interessanti proprio su questi dati fondamentali allora ritorniamo qua la borsa Fuzzimilbo poi andiamo giù iniziamo a scegliere un settore un settore che mi piace in questo momento sono i finanziari quindi ne mette dieci andiamo a sceglierli per ad esempio i finanziari qual è il dato che di solito si guarda di più sui titoli finanziari il PE o il price to book value allora il PE è il rapporto tra prezzo e utili io non vado adesso a rispiegare dei corsi che abbiamo fatto tante altre volte però ve lo dico in breve il rapporto tra prezzo e utili è un indice che mi mette fa un paragone tra quanto sto pagando io un titolo e gli utili che genera facciamo un esempio se ho una società che ha un PE di 10 e ipotizzando che tutti gli anni e super earnings quindi utili ipotizzando che tutti gli anni faccio sempre gli stessi utili ecco che se ho un PE di 10 significa che in dieci anni con tutti gli utili che ho generato mi vado a ripagare l'intero prezzo di acquisizione del bene e dell'azione quindi un PE di 10 vuol dire avere un rendimento del 10% anno ora ci sono altri indicatori abbiamo il ROI che è il tasso di ritorno sugli investimenti oppure sull'equity per ogni settore ci sono degli indici di bilancio che hanno più senso rispetto ad altri settori perché? perché a seconda del business che io sto facendo avrò degli indicatori che meglio mi raffigurano l'andamento e la salute di quel tipo di business ora noi abbiamo visto i finanziari ad esempio un dato molto interessante è il price to book value ovvero il proprio capitale sociale iscritto a bilancio per capire un pochino la solidità di queste società quindi più è basso più è interessante un'altra può anche essere il dividend yield ovvero la capacità di queste società di generare dividendi perché dico questo? perché le banche sono tra le società il sistema finanziario sono tra le società che distribuiscono in genere molto dividendo quindi andare a capire quelle che danno un dividend yield più alto allora ci va ci aiuta a selezionare le banche che hanno una maggiore generazione appunto di dividendo io ho messo un dividendo molto alto e ho messo un price to book value particolare e vediamo subito guardate a Zimutton dividendo del 6,4% generali del 5,9% banca medio larmo 6,17% poi abbiamo generali post italiani però questo con un mix del price to book value allora fate caso a che banche mi sono venute fuori mi sono venute fuori tre banche che in realtà non fanno il lavoro classico della banca commerciale ovvero non distribuiscono finanziamenti mutui o altro lo fanno solo in parte ma le prime tre sono banche che fanno raccolta perché ho voluto cercare di utilizzare questo tipo di indice che è il price to book value metterlo a questo lì e invece e quindi ho cercato di utilizzare uno strumento che mi andasse a trovare le banche più solide in questo scenario quello attuale perché cerco le banche più solide perché c'è un tema di credit crunch e quindi io posso utilizzare questi filtri per andare a chiedere al sistema in questo caso a Fineco quali sono le banche più solide un altro dato qua adesso non lo vedo forse c'è se non è non c'è è il corte ruane il corte ruane è un indice che mi dice qual è la solidità patrimoniale di una banca e quindi le banche con un corte ruane molto alto in Italia le banche che hanno un corte ruane molto alto sono Banco Popolare Milano intesa Unicredit ad esempio ma anche Biper c'era molto alto non so se MPS c'era un po' più basso degli altri ecco quelle che hanno un corte ruane più alto sono quelli che a fronte di alcune tempeste diciamo finanziarie dovrebbero reagire meglio questo l'ho fatto per il settore finanziario torniamo alle nostre slide e andiamo a vedere quali sono Matteo scusami ti posso interrompere un attimo perché Dante fa una domanda molto interessante perché ci chiede alcune voci del bilancio delle banche sono differenti da quelle delle società classiche qual è il profitto lordo cioè l'ebitda delle banche guardato i dati di bilancio in questo senso dice ecco ecco allora è molto difficile nel senso che le banche cosa fanno le banche guadagnano su margine di interesse o meglio cioè margine di interesse sono viene definito il ricavo delle banche loro prestano dei soldi e riprestano una certa cifra e hanno un certo tipo di interesse quindi non è come quindi se io vado a vedere un giorno mi ricordo sono un po' interrotto perché stavo pensando a una conferenza di Corrado Passera anni e anni fa su Intesa ed era proprio il 2008 e lui diceva guardate che se voi dovete capire la solidità di una banca non andrete a guardare semplicemente se vale investire in una banca non andrete a guardare semplicemente se questa banca è brava a fare soldi come invece faremmo per una classica Stellantis andremo a vedere se è un prodotto buono e se lo vende no voi vi dovreste chiedere se quella banca è solida perché perché quando io ho distribuito mille miliardi di prestiti e su quei mille miliardi di prestiti arriva uno shock finanziario che anche solo l'un per cento di quei prestiti va male io ho dieci miliardi di loss quindi cosa succede che anche con l'un per cento stavamo parlando mille miliardi appunto non è una cifra così altissima per banche che hanno distribuito e che hanno investimenti anche più alti e voi vedete lui ci spiegava uno due tre per cento di perdite sui propri crediti vuol dire sono cifre altissime per le banche per cui perché tutti non si concentrano quando vanno a vedere le banche semplicemente se sono in grado di fare soldi o no ma si concentrano sul fatto se queste banche stanno negli ultimi anni migliorando la propria forza patrimoniale proprio perché quello che interessa molto e lo stiamo vedendo col credit crunch americano è che quando vado a valutare una banca non vado a vedere semplicemente la sua capacità di generare ricchezza ma vado a vedere anche la sua capacità nel tempo di essere sempre più solida quindi è questo il motivo con le banche è abbastanza semplice e quindi si andrò a vedere anche qual è l'erroi di solito vado a vedere il ROI più che un EBITDA quindi non vedrai quasi mai l'EBITDA sulle banche l'EBITDA ha molto senso sulle utilities sulle industriali su tutte le altre società molto più senso sui finanziari molto meno perché è un tema che è molto legato alla solidità e alla capacità più se è solida poi sarai capace non solo di stare in piedi quando ci sono le tempeste di Credit Suisse ma anche di generare ricavi quindi la solidità di una banca è fondata tante volte più è più guardata che la sua capacità di generare ricavi vi faccio un altro esempio nel 2008 Unicredit era a livello come le banche inglesi aveva un rapporto di crediti elargiti sul patrimonio di 20 anzi scusa anche 40 volte poi è scesa però in Inghilterra erano vicino a 40 volte i crediti elargiti sul patrimonio in Italia avevamo questo Unicredit che si avvicinava a 30 e poi invece avevamo Intesa che era a 15 ecco che se poi uno va a vedere mettando dall'aumento di capitali che ci sono stati per ricoprire i buchi eccetera eccetera e la performance di Intesa sono i crediti Intesa ha fatto molto meglio perché non era andata a indebitarsi o meglio non era andata a esporsi a creare leva finanziaria in un periodo come stavano facendo tutti e invece ha tenuto una sua rigidità di bilancio guadagnando di meno perché negli anni precedenti tutti accusavano appunto Passera di guadagnare meno di profumo allora c'era profumo perché non non si sbilanciava in questa leva finanziaria ecco che è quello che sta succedendo negli Stati Uniti quindi i dati di bilancio ci servono a capire anche ogni settore dove è più debole o dove è più forte e cercare di fare una selezione all'interno del settore se ci sono altre domande fammele pure si ti chiedono come mai il price to book value è sempre uno zero virgola qualcosa pensa che un tempo avevamo dei price to book value sopra l'uno quasi sempre avevamo avuto sopra l'uno adesso sceso molto uno perché gran parte del book value è dato dal ai tempi c'erano gli sportelli adesso gli sportelli sono stati venduti e dati ad altre società terze o alcune società li hanno tenuti al loro interno però il peso degli sportelli è sceso molto all'interno del valore di una banca cos'è che ha più senso appunto il capitale proprio quindi le banche hanno chiuso molti sportelli si sono spostati su internet questo da una view nel se lo guardiamo a dieci anni come se queste banche prezzano meno perché hanno un price book value più basso in realtà il book value che è sceso e la solidità è un po' aumentata perché gli sportelli erano un forte costo quindi dobbiamo sempre guardare quando andiamo a fare delle analisi sui settori la media del settore andare a confrontare oggi il price book value delle banche rispetto al price book value di dieci anni fa ci dà un'immagine molto falsata perché allora quel book value era alto perché c'erano gli sportelli avevano un valore immobiliare oggi quegli sportelli non ci sono e ci sembra che queste banche vengono prezzate meno in realtà sono cambiati c'è stato quello che viene definito un re-rating dell'intero settore quindi il price book value è sotto l'uno abbondantemente sotto l'uno però questo non significa che sono prezzate male anzi sono prezzate meglio proprio perché non hanno meno costi fissi che aveva rispetto al passato io preferisco sempre guardare il quarter one che è un indice di solidità patrimoniale che mi sta dicendo qual è il patrimonio della banca rispetto ai crediti che lei ha elargito ovviamente ci sono tantissimi modi per classificare poi questi crediti ci sono i crediti che sono disponibili alla vendita i crediti che non riescono ad essere diciamo non riescono a ritornare i crediti incagliati ci sono diversi livelli che a seconda di da quanto tempo il debitore non paga la banca allora questo credito viene messo in alcuni diciamo cassetti certo è che per avere poi un dato riepilogativo si va a guardare il quarter one e noi abbiamo delle banche italiane con un quarter one abbastanza solido certo alcuni dicono l'economia italiana è meno resiliente di altre economie in Europa però l'ultima crisi sta dimostrando un po' il contrario quindi questo per rispondere alla domanda se ci sono altre domande andiamo avanti così poi ok io volevo dire in questo contesto quali sono delle banche che ad esempio a me piacciono perché se no non ci serve a molto a me Banco BPM ad esempio mi piace molto perché vabbè i dati sono usciti ieri lì per chi mi segue come si dice scusate stavo leggendo una domanda poi vi rispondo lì per chi aveva visto i dati ieri sera poteva comprarseli in after hour devo dire che in after hour già guadagnava un 2% quindi i dati sono usciti dopo le 17.30 erano molto buoni sono molto buoni quindi per chi vuole fare un trading di breve quando escono questi risultati e vi dicono tutti che sono molto buoni allora ci sta di comprarle anche in after hour perché appunto l'after hour di solito non va a incamerare tutto il rialzo atteso questo è solo un esempio allora Banco BPM ha stato il target di utile 2023 1,1 miliardi pare un utile per azioni di 0,75 rispetto alla guidance di 0,6 nel 2024 poi si prevede che l'utile salga ancora 1,4 raddoppiando rispetto al 2022 con un utile per azione a 0,9 ora quello che questi anche semplicemente queste quattro righe ci stanno dicendo tantissimo ovvero oggi Banco BPM se non sbaglio quota 3,95 quindi avere un utile per azione che è 0,9 vuol dire avere facciamo finta che è 1 su 4 vuol dire avere un rendimento del 25% cioè nel 2024 perché stiamo parlando del 2024 questa società ogni anno dovrebbe rendere il 25% è tantissimo voi sapete che ad oggi una società come una banca quota può quotare vicino a un piedi 8-10 volte in questo caso abbiamo 8 volte questo è Bloomberg ma poi lo vediamo anche su Fineco e in Europa siamo più vicino a 10-11-12 volte in America siamo vicino a 13 volte anche ecco che andarsi a comprare una banca che di fatto è come se avesse un pie di 4 volte secondo me è molto interessante un pie forward ovvero un pie 2024 di 4 volte è molto interessante un dato in aumento l'abbiamo visto qua cosa mi piace di Banco Popolare andiamocelo a vedere su Fineco mi piace il dividendo cioè queste banche le nostre banche italiane in un ecco quotava 3,93 sta salendo del 4,5 allora qua abbiamo appunto piedi 7,9 quindi in linea con quello che si diceva abbiamo un dividendo del 6,11% ed è un dividendo molto interessante se dovessimo andare a guardare ogni tanto questo esercizio lo faccio andiamo a vedere i grafici non so di Intesa San Paolo di Banco BPM ma con dentro il dividendo ecco che li vediamo completamente sfalsati da quelli che siamo abituati noi a guardarli perché? perché se io ho un dividendo del 6,11% in 10 anni è come se ho il 61% di performance in realtà sarebbe molto di più perché la vado a reinvestire no? però capite bene che in questo scenario dove abbiamo inflazione abbastanza elevata e abbiamo dei tassi alti spostarsi sul sistema bancario dove abbiamo dividendi elevati che dovrebbero proprio grazie all'inflazione e ai tassi alti fare bene ecco preferire in portafoglio uno spostamento o un ribilanciamento su le società bancarie secondo me ha molto senso lo dicevo mesi fa e continuo a dirlo adesso vediamo i risultati però ecco continua ad essere molto interessante rimanere su questo settore Marco ha alzato la mano probabilmente ti dava il 5 ah ok scusate ok poi andiamo quindi ora a Banco BPM è un titolo che mi interessa molto lo metterei in portafoglio come potrei mettere un etf sul sistema bancario europeo se non voglio proprio targettizzarmi su una società un'altra che ha dato dei buoni risultati lo vediamo nelle slide e poi lo vediamo su Fineco è intesa San Paolo batte le stime rialza i target utili a 2 miliardi e soci 5,8 miliardi anche qui abbiamo un pie di 8,8 che il prossimo anno dovrebbe scendere a 7 qui abbiamo un po' di analisti 23 buy 6 old e un solo sell target 3 e 06 è vero che non è chissà che target però dobbiamo sempre vederlo anche alla luce del dividendo e di questi 5,8 miliardi ai soci cioè cosa stanno facendo molte banche non danno solo il dividendo ma vanno a ricomprare le azioni proprie e questo fa salire ovviamente il valore delle azioni andiamo a vedere su Fineco intesa San Paolo andiamo a vedere un po' di dati di bilancio anche qui vediamo il 7,4 di pie e qui abbiamo un bel rendimento 6,6 allora facciamo un altro esercizio qua abbiamo una capitalizzazione di 45 miliardi e qua si sta parlando nel primo trimestre 1,96 vediamo se ci dice il risultato di tutto l'anno per il lunedì la banca previene un significato del risultato di interesse interesse netti ecco un utile netto di 7 miliardi ok quindi se torniamo qui 7 miliardi su 45 vedete appunto che abbiamo questo pie di 7,4 ora perché sono andato a vedere quant'era l'utile che faceva per controllare il dato no volevo vedere se c'erano le stime per l'anni prossimi perché ogni tanto appunto vediamo le stime sui prossimi anni vediamo se ce le fa vedere Bloomberg e le paragono alla la capitalizzazione aspettate che ci metti un po' allora già loro danno un pie di 6,86 il il prossimo anno e quindi un aumento dell'utile significativo vediamo qua dove l'istro vediamo se mi dà l'utile in breve ok 2023 2024 e qua ho le vostre finestre faccio un po' fatica le finestre no guardate ho dieci ho le finestre del webinar e non riesco a vedere sotto vediamolo così forse faccio prima ecco utile netto già qua abbiamo l'indice che vi dicevo io qua il tier 1 il core tier 1 ha ancora più senso comunque abbiamo dei livelli molto alti per intesa vediamo se ci sono le stime di utile netto 13 miliardi al 2024 e basta si ferma pensavo andasse un pochino più in là 13 miliardi e vabbè rimane quel pie che avevamo detto noi prima unicredit credo che abbia delle stime di crescita un pochino più alte sul sugli utili comunque intesa San Paolo mi piace sia perché non la sto pagando cara perché quando vado a pagare 7,4 abbiamo visto 6,8 su Bloomberg vuol dire che la sto pagando con un tasso di rendimento superiore al 15% e poi ho un dividendo molto alto quindi questo qua intesa e banco BPM tra i bancari mi sembrano molto interessanti andiamo a vedere altri titoli qualcuno mi chiedeva di Enel vediamo cosa ti chiedevano nel conto economico di Enel e non solo esiste una voce che dice competenze di terzi cosa sono in Enel incidono molto allora io allora dipende da come Enel sapete che Enel ha tantissime società controllate alcune le consolida totalmente a bilancio ad esempio se io controllo una società al 50% cosa succede io vado a prendere ricavi utili li metto tutti nel mio bilancio al 100% e poi alla fine vado a fare le rettifiche sul fatto che sono al 50% e non sono al 100% quando invece ho delle partecipazioni ancora più basse ad esempio ho delle partecipazioni succede molto sono quelle che poi loro stanno vendendo in Cile o in quindi in America Latina o nell'est asiaco e romania mi sembra anche romania e tutto loro allora alcune volte sono costrette a mettere perché sono garanti di quel debito a mettere l'intero debito della controllata anche al 35% nel debito della società poi ci sono sempre dei vari come si dice dei vari ristorni e tutto però loro se sono in quel momento lì garanti devono mettere l'intero debito e quindi sono competenze terze poi competenze terze potrebbero essere relative a dei ricavi e quindi devono andare poi a ristornare i ricavi se loro non hanno il cento per cento alla fine di tutto il bilancio si vede tutto questo lavoro viene fatto e si vede qual è la differenza incidono molto perché in questo periodo appunto perché la struttura di Enel è di avere molte partecipazioni che stanno appunto sono prima degli utili netti infatti perché loro sono costretti a consolidarle totalmente e poi dopo li devono togliere e quindi li devono togliere perché non hanno il cento per cento quindi io l'utile te lo devo dire già pulito ma sopra io te lo ti ho messo magari i ricavi interi o ti ho messo dei debiti interi allora questa parte qua è giusto guardare l'utile netto dovresti andare a vedere tutta la situazione finanziaria quando viene presentata nelle slide quando ci sono le presentazioni della situazione finanziaria ma questa situazione va pian piano a diminuire col programma di Enel di vendere gran parte delle proprie società estere quindi concentratevi sull'utile netto non concentratevi sulle competenze terzi quindi guardate l'utile netto perché è già ben ripulito e state attenti per Enel all'evoluzione del debito un'altra società che io ho messo proprio in sottosservazione era Enel perché secondo me ha un buon dividendo ma soprattutto è un business molto molto stabile siamo in una società che sta investendo tantissimo sul come si dice su tutte le energie alternative e quindi è una che tantissimo nel senso è una delle società al mondo che investe di più in energie alternative e ha un dividendo molto alto e io credo che da qui ai prossimi anni non ci saranno grandi sconquassi su tutto ciò che è stato e l'abbiamo visto in questo nell'ultimo anno con la guerra su tutto ciò che riguarda le commodity energetiche quindi gas oil eccetera eccetera anzi credo che tutti gli incentivi che stanno arrivando sul settore continueranno e proseguiranno per un bel po' quindi su Enel è un titolo per me interessante da avere in portafoglio l'abbiamo consigliato quando valeva molto meno continuiamo a consigliarlo è vero anche che l'abbiamo consigliato prima della guerra non sapendo appunto che ci sarebbe stata la guerra il titolo ha ritracciato molto però con un dividendo di questo livello con una stabilità di business molto tranquilla io ecco Enel sarebbe un titolo che avrei in portafoglio puntando appunto sul dividendo Iberdrola sta andando molto meglio sì è molto più è anche stata molto più volatile però sicuramente Iberdrola è un'altra società del settore che è interessante le utilities in generale sono interessanti e se uno vuole io do delle idee se uno vuole prendere un ETF sui settori ecco che il settore bancario il settore utilities in questo in questo momento è interessante ah giustamente Giovanni mi dice che il PIE viene calcolato su Enel includendo anche le competenze di terzi e quindi abbiamo questo scusa ma anche su Bloomberg ti va a calcolare il PIE le competenze di terzi non credo che Bloomberg si vada a fare lo scorpo 10-22 che mi sembra un più interessante invece di là che vedevamo 17-25 e qua abbiamo questa intesa scusate è nel 14 normalizzato però non vediamo il forward per vedere il forward lo vedo nel sito giusto? no non c'è c'è il forward no comunque sì il problema delle competenze di terzi lo capisco molto bene io uso Bloomberg che mi va a guardare bene tutto attenzione perché mi viene se tu includi il PIE vai sul bilancio infatti io vado andrei sul bilancio andrei a vedere provo a vedere un attimo in alto su 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 aspetta che non riesco a salire ci dovrebbe essere indicato sì ma allora tu guarda mi stai guardando le competenze di terzi quando sono stanno già dice Giovanni io non ho mai visto questo ma le stai guardando quando sono già state come si dice nettate nel senso che se io ho il 35% di una società all'estero contro il 35% dell'utile della società estera dov'è che è? aspetta io non lo vedo qua non lo vedo probabilmente Giovanni torna su sintesi sì ah bilancio qui sotto ho capito vai un po' più giù un po' più lì dove c'è dove c'è scritto ah però sei su intesa san paolo qui devi andare su enel scusami vai su enel ok ok poi sotto dove c'è l'iisin un po' più giù dove c'è scritto enel con la scheda societaria un po' più giù dice bilancio un piccolino qua sì perché non scende si scende c'è il cursore esatto sotto risultato netto dopo le imposte lo vedi rettifica totale il risultato netto il reddito disponibile agli azionisti rettifica escluse componenti straordinarie un po' più sopra un po' più sopra dove c'è scritto meno 1238 più su su ancora più su ancora un po' lì risultato netto dopo le imposte risultato netto di competenza di terzi e questi ah ma non vuoi vedere che le parti che hanno venduto tu allora loro sono le percentuali di come si dice sono le secondo me poi devo andare a vedere se lo fanno sono le percentuali che loro hanno nelle nelle società che sono costrette a bilancio a livello di ricavi e tutte a consolidare al 100% quindi quali consolidano al 100% quando vai sotto però quando vai sul risultato ehm al netto quando vai sul risultato netto tu non puoi consolidare una società al 100% perché la legge non solo italiana ma anche estera ti obbliga a consolidare quindi a prendere l'intero bilancio della società controllata su cui hai una partecipazione di maggioranza e quindi tu sei di fatto il garante di quella società e quindi nelle linee sopra del bilancio la prendi per tutto per il 100% la consolidi al 100% quando vai sotto all'utile inizi a scorporare la percentuale che invece non è tua ma è di terzi quindi il problema penso sia questo eh il problema principale ma ce l'hanno tante società che hanno una struttura societaria ben distribuite cioè con tante controllate fino a un certo punto la legge ti obbliga a consolidare al 100% le società di cui tu sei di fatto garante sia del debito che per altre leggi che possono essere locali perché sai che sopra il 30% hai una partecipazione di fatto significativa o meglio c'è l'OPA ma se non c'è nessuno che ha una partecipazione sopra il 30% allora sei tu l'azionista di maggioranza e quindi le linee sopra le consolidi al 100% ma sotto l'utile devi andare a scorporare quella parte di utile che non ti appartiene e quindi immagino che sia questo il risultato netto di competenza di te se poi te lo vado a riapprofondire ma credo che per Enel sia questo ma anche Enel ce l'avrà tante società ce l'hanno però tu lo stai andando a scorporare perché mi dici che lo conti nel P.E. non lo conti nel P.E. che non lo stai contando nel P.E. perché tu l'hai tolto cioè il contrario era se non l'avessi tolto che andavo a incorporare le mie partecipazioni come se le partecipavo al 100% invece qua loro gli vanno a togliere l'utile dei terzi in mezzo però devi fare anche attenzione che Enel ha venduto tantissime società quindi il P.E. calcolato su 5 miliardi e 218 guarda se vuoi ci scriviamo in privato mi scrivi e ti vado a ricontrollare tutto se no qua ci perdiamo tempo non sbagliano secondo me capisco che eh sì tolgono dall'utile 1238 e ti lo devono togliere perché con 1238 sono utili non di competenza dell'Enel ma degli altri azionisti con cui Enel controlla quella società che aggenerà quelle società in realtà qua è tutto un insieme unico di tutte le partecipate quindi si vanno a togliere quelle società l'utile di quelle società che non controlli al 100% ma che se è costretto a consolidare al 100% sulle altre linee di bilancio andiamo avanti andiamo a vedere eh sono le 1424 andiamo a vedere altre società che a me piacciono allora Enel vi avevo detto che mi piaceva un'altra che mi piace molto è Stellantis è vero che Stellantis è molto esposta negli Stati Uniti e se qualcuno pensa che ci sarà un rallentamento economico con un credit crunch allora certo subirà un po' il titolo ma noi abbiamo una società con un pie che è bassissimo e da tempo che eh sottolineo che questo pie secondo me è troppo basso a 2,3 eh di pie a una capitalizzazione di 47 miliardi e a una cassa di 25 miliardi se io andassi a togliere dalla capitalizzazione la cassa questo pie sarebbe ancora più basso quindi attenzione per me questa è una società che davvero sta quotando a dei prezzi molto molto bassi sui suoi fondamentali ora è vero che in mezzo c'è eh come si dice c'è tanta incertezza perché il settore auto è un settore che è sempre stato molto esposto all'andamento dei cicli economici però sinceramente io ho una società che eh ha questi numeri quindi 25 miliardi torniamo qua 25 miliardi di cassa netta capitalizzazioni di 47 e un pie di 2,34 ecco a me sembra una società davvero interessante la sto pagando davvero poco se gli eh vi ripeto togliendogli la cassa in un anno e mezzo due gli utili dovrebbero andare a compensare l'intero investimento ovviamente c'è la cassa che potrebbe anche essere utilizzata in caso di buchi o altro non è detto che venga ridata agli azionisti non è ehm diciamo una Apple o un'altra società che eh con tutta la cassa che ha di solito la usa per buyback eccetera eccetera abbiamo visto appunto che Apple ha aumentato il buyback no questo no però sicuramente avere 25 miliardi in cassa è un po' diverso eh su una capitalizzazione 47 da un indice di solidità molto molto forte quindi l'altra società che eh io andrei a indicare è una Estellantis cosa ho voluto fare oggi? Ho cercato di darvi delle indicazioni prima macro su quali sono i temi più importanti che secondo me ci deranno di più sui singoli titoli e poi sono andato a vedere quei titoli che sono più sensibili a questi temi quindi le banche sono molto sensibili ai tassi di interesse credo che il nostro portafoglio dovrebbe essere molto sensibile ai dividendi in una fase dove c'è alta inflazione e quindi io lì eh ci starei ancora un po' perché guardate che l'inflazione tutti dicono va via va via in fretta alla fine è un po' di tempo che ce l'abbiamo quindi avere un dividendo del 6% 7% è un buon modo per combattere questa inflazione e in più sono società solide Fabio se mi vuoi fare altre domande a proposito dei dividendi sono arrivati a alcune domande su Saras c'è molta attenzione visto il dividendo che staccherà altissimo e chiedono ma come mai ma cosa è successo come possiamo spiegarci questa bassa quotazione del titolo a questo punto allora devo andarvi a vedere bene il dividendo Saras stacca il 22 maggio 19 centesimi per azione con pagamento il 24 e quota 1,13 1,14 ma è un dividendo straordinario io non seguo il titolo non so se saras referent margin io non penso c'è scritto dividendo normale se qualcuno che ci segue sul webinar è ordinario vedi Enrico ci dice ordinario evidentemente lui ha investito su Saras quindi effettivamente la domanda sorge anche a me come è possibile è vero per dare il dividendo perché hai fatto degli utili però cioè il giorno poi di stacco del dividendo l'azione perde tantissimo quindi non fai benissimo 0,12 giusto ok andiamo a vedere questa quota 1,13 ma perché dici che è così alto 1,13 da un dividendo di circa il 10% 11% 0,19 a me ho messo un sito di Finneco mi da 0,19 ah qua dice dividendo per share stimato 0,12 scusate che non è beh ci sta però che ha fatto extra profitti in questo periodo e quindi da un dividendo bisogna andare a leggere quando è uscita la dimostrale io non lo seguo il titolo sì sarà 0,19 ultimo dividendo 0,19 l'avranno spiegato ma sicuramente è perché loro hanno fatto extra profitti in questo periodo di con col margine di raffinazione molto molto interessante e quindi vanno a dare questo mega dividendo per un anno che è stato particolare attenzione che magari è solo perché i moratti hanno bisogno dei soldi non è detto che perché sono la cosa più importante quando succedono queste cose è andare a vedere le previsioni future di dividendo quindi sono andato su Bloomberg a vedervi le previsioni di dividendo per l'anno prossimo è 0,12 e per gli anni successivi è 0,08 0,09 0,09 quindi non è un dividendo questo 0,19 ritenuto stabile nel futuro quindi questo penso che sia la parte più importante se oggi io stacco 0,19 penso che l'anno prossimo scusate non staccherò 0,19 ma 0,12 allora non mi va a recuperare in un anno il dividendo che ho staccato è come se mi vado a liquidare parte del titolo se lo riesce è stato chiaro sì chiarissimo poi c'era una domanda aspetta che la vado a ritrovare Matteo ti aveva scritto una domanda eccola qua Matteo ci dice però i bancari non scontano un rischio sistemico in questa fase vedi il discorso di Buffett eccetera eccetera per via delle tuberenze americane si scaricano immediatamente anche su di noi sì è chiaro c'è un rischio infatti secondo me c'è un rischio dicendo che comprare i bancari è privo di rischio secondo me c'è un rischio ma secondo me in Europa vale la pena correre questo rischio cioè ci siamo quello che è successo in America è vero che non sappiamo benissimo le dimensioni del credit crunch e tutto però io credo che stiano intervenendo in maniera molto diversa dal passato e che non sia così diffuso come in passato in mezzo metteteci che l'idea è di abbassare i tassi di interesse e quindi mi aspetto che il calo dei tassi di interesse con l'intervento della FDIC che ha chiesto altri soldi per aiutare queste banche regionali io credo che sarà arginato non credo che ci sarà che scoppi un credit crunch a livello dei mutui subprime perché i numeri sono un pochino diversi ecco cioè non ci sono coinvolte le big bank americane che davano questi mutui come se nulla fosse ecco questo è importante perché c'è stato se da un lato non c'è stato quel controllo a livello legislativo però le grandi banche che la lezione l'hanno imparata e loro non hanno concesso tutti questi mutui come se nulla fosse le piccole banche che invece dovevano accapararsi i clienti ecco lo hanno fatto ma adesso vediamo cosa sta succedendo ecco non credo che sia così sistemico il problema delle banche regionali sì anch'io la penso così speriamo solo che le grandi banche non abbiano investito tantissimo magari non ci hanno detto tutta la verità però dovrebbe essere pubblico l'investimento delle grandi banche quindi dovremmo stare tranquilli c'era un'altra domanda aspetta ecco su mps ha maggior ragione perché giustamente ci dicono ha recuperato tanto ultimamente magari vogliamo vedere un attimo l'andamento e fare una piccola considerazione sul titolo che sono investiti andiamo sul su Fineco perché oggi sono uscite delle dichiarazioni se non sbaglio se non sbaglio era la D che diceva che il titolo secondo lui ora è ben prezzato e in effetti dopo l'aumento di capitale è la prima la prima in alto dopo l'aumento di capitale il titolo si è cioè è da un po' che fai il grafico no no un po' più in alto grafico esatto così lo vediamo meglio magari metti non so cinque anni qua ci spaventiamo cinque anni ah no allora scusa mi metti due anni spaventiamo perché allora qua c'è stato sono stati una serie di aumenti di capitale talmente diluitivi che è come se questa società fosse falita perché perché se uno l'ha comprata a 60 euro e oggi se la trova a due euro ovviamente ecco ha perso tutto no ha perso quasi tutto da l'ultimo aumento di capitale ad oggi diciamo che viaggia su due e undici che è un po' un prezzo abbastanza era arrivata a uno se non erro dopo l'aumento era sceso per l'effetto di lui tipo dell'aumento e poi è risalita però in effetti le dichiarazioni che sono sbaglio ci sono state oggi sono abbastanza guardate possiamo vedere il risultato facciamo un punto uno che questo è Reuters allora vediamo un attimino se qua c'è il Common Equity Tier 1 si è attestato al 14,4% rispetto al 15,6% dopo che i modelli di rischi interni rivisti hanno determinato un aumento delle attività ponderate per il rischio inferiore al previsto comunque un 14,4% è molto molto elevato cioè MPS e come vedete non sono andato a vedere subito gli utili sono andato a vedere perché sto analizzando una banca la solidità patrimoniale della banca quindi quando vado a vedere dei dati fondamentali ovviamente a seconda del settore e della società in cui sto parlando andrò a vedere quelli che sono più importanti per quel settore quindi il più importante per MPS dopo poi quello che è successo è la sua solidità quindi è una solidità elevata poi l'utile eletto nel periodo di gennaio-marzo quindi nel primo trimestre 236 milioni oltre le aspettative di mercato che erano 150 milioni va bene se ho un confronto con 10 milioni va bene tutto da dove nasce? Nasce da un aumento di capitale di 2,5 miliardi quindi la domanda è MPS oggi me la sto pagando cara o no? Allora è una società che è stata una rimessa in sesso è una società che prima o poi verrà comprata da qualcuno è inutile che stiamo qua a farci a dirci che sarà in piedi non ci credo che starà in piedi credo che sarà una società che finirà confluirà all'interno di un'altra banca i costi operativi sono scesi va bene il 14% infatti sono 53% i costi operativi non sono bassissimi si può fare ancora meglio perché se non sbaglio le altre banche hanno dei costi operativi sotto il 50% quindi possono fare ancora meglio i ricavi delle attività di credito ecco anche qui sono cresciuti del 57% rispetto all'anno precedente ma è difficile confrontare oggi un e-credit con gli anni precedenti perché gli anni precedenti avevamo una situazione davvero molto particolare io credo che scusate MPS io credo che MPS sia un po' una scommessa per averla nel portafoglio nel senso che è la scommessa su chi se la compra e a che prezzo se la compra è una società che adesso è più solida del passato ma se dovessi scegliere io non scommetterai su MPS scommetterai di più su Banco Popolare Milano in questo momento o delle società che hanno sono già con una storia più solida non per forza sui numeri ma una storia più solida e quindi e lo sapete anche voi Unicredit ha messo gli occhi più su Popolare Milano che non su MPS e se l'ha fatto una buona ragione ci sarà questa è un po' la mia risposta Matteo ti posso chiedere una cortesia giustamente ci hanno segnalato che abbiamo visto solo le banche si può guardare Team? Sì allora a me Team non è una società che mi piace molto per un problema di debito e adesso dipenderà da che cosa si farà con l'offerta di KKR il fondo infrastrutturale di fatto e c'è la CDP no? Ora perché non mi piace questa società? Allora nel momento in cui va in porto quell'operazione allora gran parte della società viene scorporata e così anche il suo debito e questa diventa una società che da generare cassa negativa cioè ogni anno per il costo del debito si va a mangiare tantissimi utili anzi si va in perdita proprio perché ha un costo del debito molto alto diventa una società cash positive quindi tira via gran parte di se stessa e diventa cash positive e quindi questa operazione ha un buon significato e una volta fatta ha senso finché non sono chiari tutti i dettagli di questa operazione voi rischiate che per fare un favore tra virgolette al governo della cassa depositi e prestiti eccetera allora fanno uno sfavore agli azionisti di minoranza quindi è su quello che starei un po' attento mi sto giocando non alla solidità o meno del business di questa società ma mi sto giocando una trattativa tra delle parti che sono molto forti che sono anche chiara il governo e delle parti che non vengono neanche prese in considerazione che sono gli azionisti di minoranza quindi io aspetterei che si è fatta chiarezza e poi deciderei questa è un po' la mia la mia view anche qui dividendi non ce n'è giusto? no ok no è una società che che giustamente cash negative non può fare informazione informazione per tutti se volete vedere se stacca dividendo in alto c'è eventi in alto a destra di fianco al floppy disk se esatto e lì metti i dividendi se ci sono delle operazioni societarie te le segnala anche eccetera eccetera magari se metti più anni esatto e vedi che c'è tutte le notizie operazioni societarie quindi da lì vedete tutte le cose monitorate e poi dal 2021 poi non ha più dati va bene Matteo le domande sono tantissime volete un primo via chat se hanno modo di contattarti in qualche maniera io non so dai sempre i tuoi contatti se non erro giusto? sì potete contattarmi su matteo.battaglia chiocciola orafinanza punto it ok e poi mi chiede come mai non faccio il video la mattina e tutto è perché ho avuto una grossa operazione sto cercando di rimettermi un po' in sesso benissimo Matteo davvero grazie di tutto forse coraggio direi per questa ultima cosa che hai detto io ringrazio tutti ricordo a tutti che il webinar è stato registrato e verrà messo a disposizione entro domani mattina sulla nostra pagina alla prossima vi ricordo i prossimi webinar nella sezione formazione trovate tutto Matteo dovrei averti fatto una proposta per giugno se non erro anzi non te l'ho ancora fatta l'ho proposta anche al collega appena mi dà l'ok mettiamo il calendario di giugno te lo comunico e mettiamo il minuto di giugno ok un saluto grazie grazie a tutti saluti saluti